Dobbiamo proclamare l'intagibilità del diritto a vivere e a vivere con dignità contro l'aborto, la manipolazione genetica, l'eutanasia, il razzismo e la violenza di qualsiasi genere. Dobbiamo proclamare tale diritto contro la guerra, la vita va sempre difesa come esseri umani e come credenti, non dobbiamo cessare mai di promuovere la cultura della vita di fronte alla cultura della morte. All'inizio abbiamo avuto un'esperienza che forse può sembrare strana, una famiglia ha un bambino down che abbandona e finalmente si trova un'altra famiglia che lo prende in casa propria ed è felice anche se è pesante la scelta che hanno fatto. Vi è una morte che si effettua mediante lo scandalo, l'odio, la irascibilità. Ma chiunque odi il proprio fratello è omicida. La vita e la salute fiche sono donne preziosi di Dio. Dobbiamo averne cura rifiutando ogni eccesso che può portare a danno fisico e spirituale, abuso di cibo, alcol, tabacco, medicinale. Chi non rispetta la vita degli altri è la propria, offende gli uomini. È Dio, datore della vita. Fanno male alla vita umana, la droga, lo stress, l'inflazione del codice stratale, l'abuso dello sport. Essere omicidi significa avere per padre il diavolo. Di fronte alle opere del diavolo, al trattamento dei minori, violenza sessuale, usi, spaccio della droga, piaga dell'aborto, ingiustizia sociale, divisione tra i conici e tra i genitori e i figli, io grido, Signore, voglio essere operatori di pace, di amore e di santità. Non ridurre la vita ad una macchina significa rispettare la dignità dell'uomo, immagine di Dio. La vita frenetica del nostro tempo non concede spazio alla riflessione. Tu, Signore, fa che io comprendo la necessità del giusto riposo per riacquistare le forze fisiche per un dialogo filiale con Te. Mio sommo è unico bene. L'omicidio uccide il corpo. L'autore di Scantoli uccide l'anima. Oh, Signore, fammi comprendere che lo scantolo che lo si dà non solo con la pubblicazione o visione di materiale pornografico, ma anche con la bestemmia, con l'accettare o con il dare la bustarella con disimpegno sul posto di lavoro. San Francesco, con cuore pieno di riconoscenza, scopre e l'ode creatore nelle creature. Anche trasfigura la creatura contemplandola nella luce e nella incarnazione di Cristo Gesù. Francesco ama il figlio di Dio fatto uomo e lui ama e rispetta il filo d'erba, gli uccelli dell'aria e l'uomo immagini di Dio. Egli che aspirava alla grandezza umana con la partecipazione alla campagna militare in Puglia scopre che l'uomo è da amare e non da combattere, da aiutare a vivere e a non a morire. Padre Pio, il 5 maggio 1956, nel discorso di inaugurazione della Casa Solieva della sofferenza, scrive, o meglio, dichiarò augurando alla Casa Solieva di diventare la città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche, luogo di preghiera e di scienza dove il genere umano si ritrova in Cristo crocifisso come un sol greggio e un solo pastore. L'amore di Padre Pio non si fermava solo alla cura della vita fisica, ma soprattutto investiva la cura della vita spirituale. Vole che la Casa Solievo fosse bella perché doveva accogliere il figlio di Dio nell'uomo. Fu costruita secondo il desiderio del padre il quale così rispose ad un'osservazione sul lusso adoperato. Troppo lussuosa, ma se fosse possibile l'avrei fatta d'oro perché il malato è Gesù e tutto è poco quello che si fa per il Signore. Grazie a tutti!